Novità nei quartieri alti. Cade in casa la capolista Actionau Monopoli ed è raggiunta in classifica da pallacanestro Molfetta. Vetta per due dunque nel campionato di Serie C Gold pugliese dopo i responsi della quarta giornata del girone di ritorno. Sorpresa ma non troppo a Monopoli, superato da Cussionico Taranto per 86-82. Incontenibile Bricis, autore di 36 punti, che trascina i ragazzi di Cocioliva al sorpasso nel quarto periodo. Bene pure Dusels con 20. Ferma Monopoli a quota 24 punti. Ecco dunque l'aggancio di pallacanestro Molfetta che prevale su Mola New Basket 2012. Allungando nel segmento conclusivo al pallapoli. Finisce 87-75 con 30 punti di Bagdonavicius e un bottino di 19 per altri due cannonieri Staselis da una parte e Cordis dall'altra. 30 punti anche per Petraitis nel 99-83 con cui Lupalecce supera Cestistica Ostuni a cui non bastano i 40 in due di Calloia e Maximovic. Un successo che consente ai Salentini di salire a quota 20 punti e di restare a braccetto con Taranto. Quinta posizione per Vieste che si issa a 16 punti dopo essersi aggiudicata il derby foggiano 81-70 in casa di Manfredonia con 24 punti di Vranicovic al termine di una gara condotta per intero. Nella parte destra della classifica balzo in avanti per Castellanetta e nuova pallacanestro Monteroni che infilano il quinto successo. I biancorossi ionici regolano Libertas Molfetta per 81-68 con 25 punti di annuale al termine di una contesa incerta. Risolta solo negli ultimi minuti mentre nuova pallacanestro Monteroni passa a Ceglie contro Francavilla di misura per 77-76. 17 i punti per Povilaitis fra gli ospiti anche se i migliori marcatori sono fra i ragazzi di coach Alba, De Nino con 22 e Murulo con 20. Nel prossimo turno infine torna una grande classica del basket pugliese come Ostuni Monopoli mentre Molfetta giocherà sul campo del Francavilla.